Inizia anche il cammino del Cap Solofra. Per i Conciari sarà una stagione diversa dalle altre. La Rosa è stata totalmente rinnovata e ringiovanita, a partire dall'allenatore. Francesco Mollica, nuovo coach dei Conciari, è emozionato per la nuova avventura, ha le idee molto chiare. Guarda, è stata una bella sorpresa quella che aveva chiamata il presidente Pisano. Mi ha fatto molto piacere, d'orgoglio. Sono tre stagioni che vengo dalla scuola del settore giovanile della Scandone. E' una bella avventura proprio per questo, perché il gruppo è composto per la maggior parte da giovani. Mi piace molto interagire con loro, forse allenare i giovani è la cosa che mi piace di più. Per il neocoach sarà un vero e proprio banco di prova. Molti elementi giovani e pochi perni di esperienza in un girone di ferro, ma che non incude minimamente timore. Sul fatto dell'esperienza sì, sarò giovane d'età, però insomma la pallaca ne strollo da un po' di anni. Sul fatto del campionato sì, sicuramente è un campionato, siamo capitati in un girone molto duro. Ci sono squadre che si confermano e che ambiscono a fare un campionato di buon livello. E noi siamo con loro, quindi no, paura di niente, paura proprio in questi casi non ce ne vuole. Bisogna andare lì, giocare partita per partita e mettercela tutta con il gruppo.